la confezione del recorder il flauto dolce acustico ed elettronico apriamo ora la scatola e vediamo il contenuto ecco qua la scatola contiene il flauto dolce rosso il recorder poi all'interno gli accessori un cavo usb un tappino per la modalità elettronica uno scovolo per la pulizia e le istruzioni per l'uso veloce possiamo notare nel flauto dolce le varie parti che lo compongono il becco che ha un sensore capacitivo così pure i tre pulsanti sormontati da un led e tutte le parti appunto relative alla tastiera dove ci sono i fori che sono dei sensori touch sulla parte laterale dello strumento abbiamo la connessione usb per la ricarica oltre al tappo che consente di suonarlo in modalità elettronica e senza tappo in modalità acustica che cosi d'armi